Penso che i quadri stiano aggiungendo i loro posti. Mi ha chiamato il sindaco pochi minuti fa dicendo che è sua intenzione andare avanti su questa delibera, per noi questo tema è irricevibile perché il dibattito si è già concluso, la delibera è stata bocciata e quindi adesso noi cominciamo con il nostro lavoro d'aula.